Sì, sì, ok, ok. Sarajevo quarta azione, ok. Allora, stiamo attraversando il mondo dei cappelletti di Bosnia-Herzegovina. Qui possiamo dire che se questo andrà su YouTube, possiamo anche annunciare che siamo quattro finocchi perché non siamo scopati con tutte le vie che c'era Sarajevo. Qui tu hai pensionato di 80 anni che ho dormito in sera? No, no, gli ha dormito ma si sono risvegliati come Dracula. Ecco, adesso li inquadriamo. Questo è Taffoni. Questo è quello giusto. Questo porta tutti in salvo a casa. Esatto, giusto. Fino a quando lo diamo a casa non ne potremo di niente. Dopo lo compiemo. Acceo, ecco Acceo che con la sua grossa e potente turbina mi ha accompagnato durante la notte con le sue turbolenti. Io Francesco ho turbato questa notte. Oh, scampo. Arca mi dice. Fai adesso riprenderà con lo scuro. Allora. L'audio ci sta che te ne frega. L'audio ci sta. Allora, qui c'è Francesco però, qui c'è adesso. Non è che c'è luce. Adesso, fissiamo la luce. La russa è sto porco. Ma ti sai che era? È una trampata, l'ha scegliato gli sordi. Anche perché c'è la nostra trampata, quindi sicuramente sono stato stato. Io, il russo di mio, che ha riordi alla sicurezza. Lui russa, lui russa. Ti prende anche da dove c'è. Adesso che ci abbiamo la luce. fra un secondo, inquadriamo Francesco. Francesco, non ci conosciamo bene, però ancora non so le sue potenzialità. Adesso vedremo qua a Belgrado, se si tromba. Speriamo di sì. Al limite YouTube, lo sapranno tutti. Io mi appagamento. Guarda qua, bollaccio. E poi c'è il regista, eccolo qua, il regista che... Ma guarda l'avanti, bollaccio. Adesso, adesso guarda l'avanti, non qua. C'è il regista che so io. Ovviamente è qui, perché siamo in compagnia, se no mi ero fatto una bugnetta e mi tranquillizzava un attimo. Comunque, anche io andrò... Sono anch'io andrò... Sono io andrò. Anch'io andrò a pagamento, ovviamente. Ok. Allora, inquadriamo il panorama. Vai, vai, vai.